Anche in Canavesa una scuola occupata del liceo Amoro qui a Rivarolo, quali sono le motivazioni che vi spingono ad occupare la scuola? Allora, le motivazioni sono intanto, partono da quelle delle altre manifestazioni e delle altre occupazioni, possiamo dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la morte di Lorenzo Parelli, che noi non intendiamo tanto come un problema solo inerente alla scuola, è aperto il dibattito se si tratti di un problema della scuola o di un problema legato al mondo del lavoro, sicuramente per un indice del fatto che lo studente non sia al centro di un'istituzione e la scuola non sia al centro dell'attenzione, quindi quello che chiediamo soprattutto è un cambio del sistema scolastico che si adegui e che inizia a essere il punto centrale del nostro paese. Noi quello che ci chiediamo è dove può andare un paese che non punta sull'istruzione, che non investe soprattutto nell'istruzione, perché è un paese che non investe nel futuro, quindi che non avrà futuro. Scuola occupata cosa intendete? E da mercoledì cosa state facendo? Anche dei laboratori, delle iniziative? Sì, allora, noi abbiamo dichiarato l'occupazione mercoledì alle 10, dopo aver fatto un'assemblea d'istituto nel quale i rappresentanti di classe, su mandato delle classi, davano l'adesione o meno all'occupazione. Abbiamo ricevuto 49 adesioni su 51 classi votanti, per cui un grande consenso e abbiamo garantito comunque le attività didattiche per tutelare gli studenti che erano presenti quel giorno e da ieri stiamo facendo attività autogestite e dibattiti per portare un modello alternativo e cercare di trovare anche con la collaborazione di alcuni insegnanti delle possibili strade di cambiamento. Quindi il ruolo dei professori in questa situazione? Dunque, ci sono naturalmente dei professori che sono d'accordo e che ci supportano di più di altri e ce ne sono altri che non sono d'accordo, naturalmente è una cosa che fa parte del loro ruolo. Noi però abbiamo ricevuto tantissimo sostegno da parte di molti insegnanti e ci teniamo a ribadire che noi non siamo contro gli insegnanti in sé, che sono delle persone, non esistono persone giuste o sbagliate, la maggior parte di loro fanno del loro meglio per l'istruzione, ma inseriti in un sistema che non valorizza le persone, nemmeno loro possono ottenere i risultati che spererebbero. Quindi noi non vogliamo cambiare gli insegnanti, vogliamo cambiare il contorno e l'istituzione scolastica in sé. Quanto andrete avanti e avete speranza di riuscire a ottenere qualcosa? Allora, ottenere qualcosa sicuramente sì, uno dei primi obiettivi era già riuscire a riportare al centro del dibattito pubblico la scuola, almeno localmente e dire che su questo ci siamo riusciti e abbiamo accolto diverse segnalazioni e apprezzamenti dalla comunità locale e poi l'altro obiettivo è innanzitutto sensibilizzare gli studenti e far capire loro che la scuola appartiene a loro, quindi che loro stessi possono essere i primi a cercare delle soluzioni e da proporre delle soluzioni. Infine abbiamo ricevuto l'offerta da parte di alcuni assessori locali di essere ascoltati e di cercare assieme altre strategie, per cui sì, assolutamente degli obiettivi li stiamo raggiungendo. Riguardo la durata dell'occupazione, naturalmente noi verificheremo se gli studenti ritengono che sia il caso di continuare o meno e agiremo di conseguenza. Una cosa che abbiamo ottenuto, sicuramente dobbiamo ancora decidere il giorno, ma sarà una tavolata con alcuni assessori comunali, come ha detto Gioele, con alcuni rappresentanti di Confindustria e anche con alcuni lavoratori che accettano persone nelle loro attività a fare percorsi di PCTO, quindi questo sicuramente sarà una discussione interessante e utilizzeremo tutto il materiale prodotto in questi due giorni per intraprendere questa piacevole discussione. Grazie per la visione!